Giannini, chi li segue? Perché diceva di Brucche, guardate che dietro c'è un piano, c'è un linguaggio comune a una certa destra, una certa destra che soffia sull'Europa come un vento nero, diceva. Ma la componente no vax, no pass è molto composita e io non sono per schematizzare in modo così netto. Non c'è dubbio che c'è una parte politica che sta strumentalizzando quelle proteste in una chiave che effettivamente è tutta politica ed è la destra, la destra estrema, la destra radicale che non è solo italiana, è transnazionale ed è la destra sovranista che conosciamo e che riecheggia nelle frasi che hai fatto ascoltare prima che riguardavano Orban, che riguardavano il ministro polacco e così via. Quella destra esiste, dopodiché dentro questo movimento esistono tante altre componenti, molte delle quali sono moralizzate, naturalmente deprecabili. Mi dispiace ma questo Monsignor Viganò che avete appena fatto ascoltare è un mascalzone perché io rispetto tutti, ma non chi dice le bugie e non chi mente dicendo che hanno ucciso le persone. Lui ha detto che hanno ucciso le persone ricoverate facendoci credere che morivano di Covid per imporci la mascherina. Questa è una mascalzonata veramente grave della quale, mi stupisco, persino un alto prelato si assume la responsabilità. Diceva giustamente Bruno Vespa? Dobbiamo dire basta, dobbiamo, scusami completo, noi dobbiamo essere intolleranti, basta con la tolleranza nei confronti di chi mente, non di chi la pensa in un altro modo, ma di chi mente queste persone. L'ultimo è Viganò, mente e bisogna dirlo con tutta la forza possibile. Viganò chi è?